Ben 10 milioni di euro per intervenire nell'enorme complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio, in buona parte abbandonato da decenni. I fondi potrebbero arrivare con il master plan per il sud, ovvero con l'elenco della spesa da ben 900 milioni di euro, per interventi infrastrutturali strategici che la regione Abruzzo si appresta dopo varie limature a presentare al governo. L'ingente patrimonio immobiliare è di proprietà dell'ASL, ma già si sta lavorando per un'accessione del diritto di superficie al comune dell'Aquila. Un progetto c'è già per recuperare un'area strategica a pochi metri dalla Basilica di Colle Maggio e dal Conservatorio, in via di ricostruzione post-sismica. Un progetto che prevede la realizzazione di una casa delle associazioni culturali e sociali, di un museo della mente e di un hotel dove a lavorare sono anche i disabili, ispirato alla fortunata esperienza di inclusione sociale di Trieste. E' ancora un centro congressi, uno studentato, librerie, bistrò e foresterie. Un luogo aperto ai giovani, insomma, agli studenti e alle politiche di inclusione sociale per i disabili psichiatrici, in ricordo di cos'è stato quel complesso, ovvero un manicomio, un luogo di segregazione e sofferenza, poi chiuso grazie alla legge Basaglia. A risultare in una nota l'associazione 332, che gestisce il centro di aggregazione e case matte, nato grazie a recuperare una piccola struttura abbandonata nell'ex ospedale psichiatrico a seguito del terremoto. Sono anni, scrive il 332, che ci battiamo con ogni mezzo a difesa di questo splendido parco, lasciato in condizioni di degrado e abbandono da parte delle istituzioni. Siamo certi, prosegue la nota, che quest'area possa diventare un laboratorio di idee ed esperienze socio-culturali per la rinascita di tutto il territorio, ma solo all'interno di un processo partecipato dal basso, che veda negli individui singoli associati i veri protagonisti.